Sarà riaperto entro il fine settimana il sottopasso di piazza Garibaldi a Montevarchi, chiuso per la seconda volta nel giro di un mese per consentire le prove di carico sul nuovo ponte della Sugerella e l'installazione di parapetti e passerella pedonale. Disagi contenuti visto il periodo di ferie ma comunque presenti, essendo quello un punto cardine del traffico cittadino. Intanto i lavori sull'impalcato procedono spediti, già steso l'asfalto mancano solo le rifiniture che saranno completate entro la fine del mese, poi l'apertura è prevista per metà settembre. Al momento quindi i tempi sulla tabella di marcia sarebbero rispettati. I lavori iniziarono a novembre 2023 dopo oltre 15 anni di attesa. L'apertura dovrebbe essere confermata dunque prima della riapertura delle scuole. Il ponte infatti unisce il quartiere della Ginestra a via Sugerella e quindi alla stazione ferroviaria e alla Chiantigiana che porta a Cavriglia. Circa 800 mila euro il quadro complessivo degli interventi.